Mercoledì scorso, la caduta di Calcinacci, proprio lì dove l'Associazione Sant'Agata svolge le sue attività a sostegno delle fasce più deboli e più fragili della città. È lo stesso luogo dove molte famiglie vanno settimanalmente per avere un aiuto con la spesa, grazie al banco alimentare. La determinazione del gruppo di volontari e volontari ha permesso di trovare la soluzione. E così, dopo aver segnalato il problema alla provincia, che con un tempestivo intervento ha limitato l'accesso alla struttura e transannato l'ingresso, i volontari e le volontari hanno effettuato le consegne della spesa porta a porta. È Agata Scancarello che ci racconta quanto siano aumentate le difficoltà di quei quartieri, tanto da dover chiedere sui loro canali social una mano per recuperare abiti invernali per bambini e bambine. E sottolinea che mai, come questo periodo, c'è bisogno di sostegno ai più poveri, che aumentano di settimana in settimana. Intanto l'associazione confida nell'inizio dei lavori di intervento e manutenzione sulla struttura, che inizieranno domani.